Denon DJ Prime 4 Plus amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ la Prime 4 Plus sta per arrivare avevamo un po' annunciato con quel trucchetto del manuale che avevamo fatto vedere sui video e sta per sostituire la famosissima Prime 4 quindi lo stand alone per eccellenza di Denon ma non solo di Denon di gran parte del mercato beh andiamo a vedere che c'è di nuovo ovviamente è uno spoiler quindi ancora non è uscito e le immagini trapelano dal web si susseguono un sacco di leggende metropolitane ma Denon DJ Prime 4 Plus avrà un aspetto nuovo e anche una caratteristica che già fa parlare una caratteristica così si dice misteriosa anyway Denon DJ ha annunciato oggi Prime 4 Plus un sostituto del popolare controller DJ stand alone Prime 4 che sebbene lo vedete già dietro le mie spalle condivida lo stesso design del predecessore lo va un po' a migliorare con questa caratteristica di cui ancora si parla che molti già la dicono come stems però non abbiamo la conferma non vogliamo dire boiate prima del tempo lo speriamo tanto oh Pioneer aveva appena lanciato una raffica di robe ed era quasi in scia perché rispetto a 4 anni fa della Prime 4 non ti arriva la Prime 4 Plus insomma non ci si fa non ci si fa non ci si fa e ovviamente hanno fatto sfogare tutto il mercato per far arrivare questa Prime 4 Plus in questi scatti un po' rubati che troviamo sul web la Prime 4 Plus lo vedete qua da nuovo allo stesso design fisico dell'originale con una combinazione di colore bianco blu arancione che potrebbe sembrare un pochino più cool diciamo così stesso design fisico mentre alcune parti che sono lucide adesso sono opache i piedini e alcune manopole dei tasti ora sono nere non argentate nel complesso è stato un pochino attenuato a livello cromatico sono sparite un po' le luci un po' tamarre quelle verdi e blu per essere sostituite da un discorso un pochino più bianco blu opaco un altro cambiamento è che adesso i pulsanti del cue e del play pausa sono gommati ma ancora cliccabili diversi da quelli di plastica prima della Prime 4 e ancora un altro è che le jog wheel sono solo un po' più grandi sulla superficie superiore altro cambiamento annunciato è che l'unità funziona con i servizi di streaming musicale di Amazon insieme a Tidal, Beatport, Beatsource e Soundcloud Danone DJ però ha fortemente accennato e si sente in giro questa grossa novità che probabilmente la scopriremo solo vivendo come diceva i buon Battisti ma la scopriremo col tempo perché molti dicono che sono gli stems ma staremo a vedere tutto credo sia pronto e sarebbe veramente il colpo di grazia quando sarà disponibile questa Prime 4 Plus a partire dal 29 giugno quindi staremo lì ovviamente per mostrarvela in tutto il suo splendore al prezzo di 2599 euro e in più ci saranno anche i TouchFX che vengono portati con l'Engine DJ 3.1 che aggiorna questo software proprio in corrispondenza con l'imminente uscita della Prime 4 Plus quindi TouchFX, playlist intelligenti quindi Smart List e altro ma questo lo vedremo poi nel dettaglio andiamo più che altro a riepilogare le caratteristiche di questa Prime 4 che sono tutte le caratteristiche identiche a quelle della Prime 4 originale in più con quelle che vi ho già detto e con la sorpresa che arriverà quindi controller autonomo a 4 deck per performance stand alone quindi senza computer un display multitouch a 10,1 pollici streaming musicale per l'accesso a milioni di brani di Amazon Musical Limited Tidal, Beatsource, Beatport, SoundCloud Go Plus e Dropbox un campionatore incorporato con 16 slot di campionamento attivabili da pad controllo del volume e routing di uscita per l'altra uscita zone come sapete i TouchFX per andare a manipolare l'audio interattivo del touchscreen 26 effetti principali con i display OLED e controlli dei parametri 4 sweep effects dinamici controllati da manopola che possono essere combinati con il main effects quindi con gli effetti principali controllo dell'illuminazione per DMX, Philips Hue e Nanoleaf automatici e personalizzati 4 ingressi multimediali USB 1SD per la riproduzione musicale collegamento con engine remote desktop come sappiamo analisi dei brani integrata per traccia in streaming e contenuti multimediali salvati, 16 performance pad con modalità hot cue, loop, save loop, roll slicer, sampler e auto loop robusto telaio in metallo e pomelli in acciaio uscita XLR zone quindi dedicata con equalizzatore e controllo del volume che lo vediamo qua per l'invio di playlist e brani a una zona separata alloggiamento per un hard disk SATA da 2,5 pollici integrato per memorizzare la musica a bordo le jog da 6 pollici con una superficie tattile ampliata colore assegnabile display HD centrale per le copertine degli album 4 canali di ingresso assegnabili per sorgenti multimediali esterne quindi linea e fono 2 ingressi combinati XLR da 1 quarto dedicati per microfono con controlli di livello equalizzatore, tool cover ed eco registratore audio interno per l'acquisizione di show insomma di vostri DJ set crossfader completamente personalizzabile con manopola di controllo della curva interruttore di canale assegnazione a fader start connessione staging cue per l'illuminazione event pro DJ controllo video audio legacy a 24 bit in modalità computer e non in stand alone supporta serato DJ pro nel quale sblocca l'hardware e virtual DJ che però funziona tutto ma ci vuole la licenza quindi ci siamo siamo qui sempre a dirvi delle novità la prime 4 plus è in arrivo il 29 giugno e noi staremo lì ovviamente a presentarvele a farvi vedere tutte queste novità che vi abbiamo elencato in più la famosa sorpresa che chiaramente quando uscirà la saprete prima di tutti fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti c'è di nuovo il sorpasso oppure non c'è mai stato? fatecelo sapere qua sotto corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le pagine social per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo vuole migliorarsi ma anche per chi vuol fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo consulenze su tutto ciò che accade sul canale di hardware software tematiche legali tutto ciò che ti serve e richiedere una consulenza privata oltre al nostro pagine facebook e instagram c'è il nostro canale tiktok vai e seguici follow us inoltre community telegram con notifiche silenziose chat interna tutto a gratis il nostro canale youtube è importante l'iscrizione per restare sempre aggiornato su tutto il tuo mondo in anteprima con spoiler recensioni tutorial e un sacco di video che puoi scegliere di andarti a cercare nelle varie playlist così divisi per tutto quello che ti interessa ma anche col tasto search puoi oltre che iscriverti abbonarti e avere una corsia preferenziale vatti a vedere il video è tutto scritto lì sotto c'è anche l'ufficial merchandising con la linea anyway SOS4DJ i play moda like suono solo quello che mi piace vuoi essere informato su tutto ciò che accade in anteprima sul canale per non perdete niente attiva la campanella ma se vuoi puoi farci un piacere mettere un mi piace o condividere il video spammarlo lì anche altre persone che magari li può interessare vuoi aiutarci lo puoi fare tramite super grazie qua sotto o sostieni SOS4DJ ci siamo anzi bisogna aspettare un altro pochetto perché il 29 giugno questa prime 4 plus prenderà il volo sarà ufficialmente in vendita al prezzo che vi abbiamo elencato con tutte queste caratteristiche più la caratteristica misteriosa anyway siete pronti fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto sui commenti sull'eterna diatriba pioneer danon dj e se questa vi stuzzica un po' l'appetito per la stagione estiva e non oltre da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per avere una bella botta di autostima e andare sempre più su a offrirvi tante di queste cose ricordandovi anche che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiripi a un a reti unificate non si può fare questa no a me nulla anyway vabbè così adios